buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale di anima ribelle valori riprendiamo le nostre trasmissioni dopo un po di tempo è passata l'estate e adesso siamo pronti per incominciare di nuovo e continuare quella serie dei nostri capi d'opera andando avanti e quindi oggi vogliamo presentare quel capo d'opera ve lo faccio vedere subito eccolo qua che è il valore della concentrazione a elevazione della distrazione quindi beh è un capo d'opera che ci porta a concentrarci innanzitutto perché perché vedete oggi siamo distratti da tantissime cose e dunque abbiamo proprio bisogno di rifocalizzarci e di ritrovare quella concentrazione che ci serve proprio per ripescare il bandolo della matassa e dunque saper indirizzare di nuovo le energie e le nostre forze affinché il nostro pensiero sia preciso e chiaro dunque non è facile ma ci proviamo andiamo a vedere qual è il primo mantra che riguarda il suono e che ci aiuta a recuperare questa concentrazione ebbene il suono di questo documento capo d'opera che ci serve per recuperare la concentrazione suona così sono l'ordine che puntualizza lo spazio dunque la prima cosa che immaginate attraverso questa frase ricordiamoci sempre che i mantra sono comandi che noi diamo ai nostri corpi sottili e questo comando del suono è proprio il comando che arriva direttamente alla coscienza. Noi sappiamo che la coscienza nostra individuale è situata in un posto preciso che è entro di noi ma ad un certo piano che vibra ad una certa frequenza e viene chiamato il piano mentale superiore e siccome questi piani che sono queste fasce di frequenza sono a loro volta suddivisi in sottopiani per restringere e differenziare queste frequenze diciamo che nel primo sottopiano del piano mentale in questa banda di frequenza che noi chiamiamo della astrazione cioè della mente astratta quella che ci permette di fare astrazioni e quindi di concepire anche il futuro attraverso la nostra visione astratta vi è chiaro come concetto? Dunque questo mantra del suono sono l'ordine che puntualizza lo spazio lo sentite sentite la sua potenza significa che attraverso questo comando noi andiamo a individuare un punto preciso nello spazio ed è proprio quello che fa la concentrazione individuare un punto preciso sapete mi viene in mente l'esperimento della doppia fenditura in cui un cannone elettronico spara elettroni da due fenditure e quello che si va a formare sullo schermo è un'interferenza d'onda cioè i classici puntini che suddivisi come in strisce a significare che c'è un'interferenza d'onda cioè scusate cioè non sappiamo dove è finito quell'elettrone o i vari elettroni sparati uno dopo l'altro attraverso le due fenditure ma questo è l'esperimento classico possiamo dire della fisica quantistica quello della doppia fenditura ma quando noi andiamo a definire sul piano di proiezione un solo punto significa che è avvenuto un collasso d'onda cioè di tutte le possibili probabilità di dove si trovasse quel punto o quell'elettrone noi andiamo a identificarne una sapete al di là della fisica quantistica che cosa significa significa ogni collasso d'onda significa che abbiamo fatto una scelta ogni scelta che noi facciamo è un collasso d'onda nel campo delle possibilità delle infinite possibilità che ci sono e quando noi facciamo quella scelta collassa una sola possibilità è come se fosse un solo elettrone che noi andiamo individuare sul piano di proiezione è importante perché significa che quella scelta quel punto è determinato in tutto il piano di proiezione e quindi noi lì in quel punto possiamo condensare tutta l'energia creativa questo è un altro punto scusate il bisticcio di parole importante perché perché è come con un gps andare a individuare o a localizzare la nostra posizione noi siamo lì in quel punto nello spazio così si concentra l'immagine nella nostra mente di un progetto che vogliamo concretizzare si concentra in un punto entro lo spazio ma quale spazio non lo spazio in generale o il cielo stellato no è lo spazio mentale qui dentro il nostro cervello al centro del nostro cervello c'è uno spazio diciamo così nel livello eterico cioè nel livello energetico che noi chiamiamo la cavità che è proprio al centro del cervello nel terzo ventricolo del cervello vicino a quello che è il talamo nuziale cioè il talamo che è il nostro laboratorio alchemico laddove noi andiamo a costruire e creare le forme pensiero cosa sono le forme pensiero sono i progetti che noi vogliamo realizzare anche dei nostri comportamenti non solo di quello che vogliamo fare all'esterno ma come vogliamo essere noi dentro attraverso la modificazione del nostro carattere attraverso la modificazione dei nostri disagi che sappiamo essere degradi di determinati valori quindi la bassa frequenza o la frequenza abbassata in ombra di alcuni valori o di un determinato valore ebbene noi lo possiamo fare andando a focalizzare la nostra attenzione con un'immagine e ad esempio l'immagine di questo simbolo che qui vedete molto bene è il simbolo della concentrazione vedete com'è fatto allora c'è un frontale di tempio violetto che è il simbolo dell'ordine con dentro un altro frontale più piccolo sempre violetto quindi un ordine dentro l'ordine ci fa comprendere come stiamo focalizzando proprio l'ordine dentro l'ordine dentro cui c'è una stella arancione di conoscenza stella 5 punte che è la stella della conoscenza lo sappiamo perché è formata in proporzione aurea e ormai ve l'abbiamo già spiegato il perché che cos'è la proporzione aurea cioè il lato della stella è in proporzione aurea rispetto al pentagono iscritto al suo interno la proporzione aurea è il segmento aureo è di misura 1,618 e quindi il lato della stella è 1,618 volte cioè poco più di una volta e mezzo il lato del pentagono costruito al suo interno questa proporzione viene chiamata aurea perché rispecchia quella che è la serie di Fibonacci e quindi i numeri di questa serie che sono appunto in proporzione aurea ed essendo questa proporzione aurea come dire la misura il frattale minimo, l'unità frattalica della costruzione dell'universo che è un universo frattalico noi comprendiamo perché la stella 5 punte è il simbolo della conoscenza poiché è la stella su cui è costruito l'intero universo costruito da chi? Ma dal demiurgo ovviamente chiunque l'abbia costruito visto che ci stanno le stelle in cielo e i sistemi solari e le galassie beh, quelle stanno lì e o per intelligenza propria oppure qualcuno ce le ha messe ma noi non entriamo in questi termini che poi sono addirittura più che filosofici noi non sappiamo ma sappiamo che c'è perché lo vediamo dunque la stella della conoscenza ma continuando nel simbolo dentro a questa stella della conoscenza c'è anche una stella verde a tre punte che è quella dell'intelligenza e poi ancora ultimo ma non ultimo la freccia rossa la vedete che punta verso l'alto che è la freccia rossa non dell'alta velocità ma in questo caso della volontà la freccia che dà la direzione dunque riassumendo e sintetizzando nel simbolo della concentrazione vi è l'ordine anzi partiamo dalla freccia della volontà vi è la volontà indirizzata dall'intelligenza entro la conoscenza per far sì che quella conoscenza sia così ordinata quindi entro il simbolo del frontale di tempio dell'ordine da divenire un punto focale e quindi concentrato di volere di proposito di intento e intenzione lo vedete come i simboli trasmettono esattamente l'energia di un valore e questo è il potere dei simboli perché mantengono in una immagine che noi possiamo cogliere attraverso i sensi l'energia di un valore e con quell'energia noi cogliendola attraverso il senso della vista la possiamo evocare evocarla nel simbolo e poi trasmetterla al nostro interno cioè è come se la succhiassimo attirassimo dentro di noi questo è il modo di evocare i principi che sono potremmo dire attraverso i simboli le pietre migliari della creazione come è importante è importantissimo importantissimo attraverso i simboli noi possiamo accedere direttamente all'energia originale di un principio non c'è un mezzo più diretto e dunque concentrandoci visivamente sul simbolo emettiamo il primo mantra che è il comando che va diritto e diretto alla nostra coscienza quello del suono sono l'ordine che puntualizza lo spazio cioè di tutto quel campo di possibilità sceglie un solo punto dove indirizzare il proposito lo sentite? allora vediamo come c'è utile come c'è utile la concentrazione il tutto abbiamo detto avviene dentro il nostro cervello in quella zona eterica quindi quello spazio eterico o energetico che è al centro del nostro cervello e viene chiamato la cavità cavità perché è proprio una sorta di area che quando noi abbiamo delle idee geniali si illumina e si illumina di un giallo oro sapete quella lampadina che si accende di Archimede Pitagorico nei fumetti di Topolino della Walt Disney quando ha un'idea luminosa un'idea che gli illumina che gli fa risolvere quando lui dice eureka ecco è perché proprio quella luce nella cavità che come una lampadina si accende e ci dà la chiarezza di visione con quella chiarezza noi possiamo andare a costruire forme pensiero cioè progetti molto ben delineati che poi attraverso la concentrazione e poi la proiezione possiamo andare a proiettare nell'ambiente circostante affinché siano realizzati ma vediamo il secondo punto cioè il secondo mantra scusate che riguarda la luce vedete c'è un'immagine è proprio l'immagine che rappresenta un obiettivo e quindi con una lente che mette a fuoco perché è proprio così infatti il mantra della luce che arriva al nostro corpo mentale come comando è metto a fuoco ciò che conta è interessante questo mantra metto a fuoco ciò che conta dunque che cosa ti fa venire in mente metto a fuoco ciò che conta intanto quel punto è la messa a fuoco ho determinato un punto nello spazio dove dove tutta l'energia creativa viene convogliata ma viene convogliata nell'immagine del mio proposito dunque c'è quel simbolo quel simbolo è quello della concentrazione voglio utilizzare la mia concentrazione per creare ad esempio una forma di bontà cioè un'azione un intento e un comportamento che mira a utilizzare la legge di economia la bontà bontà legge di economia sì vedete un gesto buono quando noi utilizziamo la bontà ad esempio per aiutare una persona che è in difficoltà quell'essere buoni quell'aiuto che noi diamo è la via di minor resistenza cosa significa? Significa che il gesto di aiuto il gesto buono implica il consumo di pochissima energia rispetto a un gesto cattivo a un gesto ad esempio di rabbia o di aggressività pensate quando noi diventiamo aggressivi quanta energia consumiamo invece con un gesto di bontà che può essere raccogliere una cosa che è caduta un'altra persona magari una stampella o il suo bastone oppure un ombrello se piove che gli è caduto qualsiasi gesto di bontà richiede pochissima energia perché vedete è attivato direttamente dal cuore e siccome entro il nostro cuore a livello eterico cioè il chakra del cuore il centro energetico del cuore è lo stesso centro che produce energia la nostra energia ci viene dal nostro centro che è il cuore che è il centro di vita il nostro singolo centro di vita ciascuno per ogni individuo quindi il nostro individuale centro di vita è proprio il centro energetico del cuore ed è lì che c'è già tutta l'energia che ci serve quando facciamo una buona azione andiamo a prendere quell'energia e ce ne serve pochissima per trasformarla in forza di amore ti aiuto in quel gesto di bontà tutte le intenzioni i propositi e poi i sentimenti che servono per aiutare gli altri ci vengono dal cuore e consumano utilizzano pochissima energia poiché l'energia dell'amore è quella infinita che non si esaurisce mai mentre quella dell'odio quella dell'arrabbia quella dell'aggressività se ne consuma tanta tanto è vero che dopo un po' che siamo aggressivi siamo senza energia e ci dobbiamo fermare per ricaricarci invece l'energia della bontà che fondamentalmente è energia dell'amore è infinita non ci stanchiamo mai di essere buoni ho fatto questo esempio perché può essere anche a sembrare alcuni addirittura infantile mentre è un esempio molto appropriato sull'utilizzo dell'energia e soprattutto della concentrazione allora se noi andiamo a vedere ora il terzo mantra che riguarda il colore il mantra del colore è la qualità intrinseca della concentrazione che va proprio a indirizzare a muovere il nostro corpo emotivo cioè proprio quel cuore cui dicevamo prima è il comando che recita così svelo il disegno al conoscitore svelo il disegno al conoscitore come lo sentite dentro questo svelo il disegno al conoscitore qui nel cuore sentite che è come un comando che sveglia sveglia il nostro cuore lo sveglia all'azione il nostro cuore è il conoscitore è colui il nostro cuore sempre centro energetico ma è anche il centro di sintonia per cui il nostro cuore conosce tutte le vibrazioni del campo magnetico in cui siamo immersi e quindi di tutte le attività di tutti gli accadimenti che possono succedere precipitare attraverso collassi d'onda e quindi uno alla volta nel nostro tempo lineare arrivano il nostro cuore li può comprendere può sintonizzarsi e quindi comprenderli e dunque attuare la strategia e tattica migliore per essere coerente alla vita dunque quando noi agiamo attraverso il nostro cuore e con questo comando gli diciamo che è il conoscitore che vede il disegno del progetto è importante questo il disegno del progetto qualsiasi progetto noi vogliamo realizzare il cuore lo vede lo misura poiché essendo organo centro di sintonia e essendo il conoscitore lo può misurare lo può misurare è fantastico è fantastico che cosa fa il nostro centro energetico del cuore lo conosce lo misura e quindi ne svela l'interezza è attraverso è attraverso la visione del cuore che noi possiamo sapere se quel progetto avrà un'incidenza nella realtà non è attraverso la mente la mente gli abbiamo già dato il suo comando ed era metto a fuoco ciò che conta quindi la mente è impiegata a mettere a fuoco ecco a focalizzare a concentrare l'energia ma è il cuore attraverso il mantra del colore che svela il disegno globale svela il disegno globale ma poi arriva anche un altro fattore che diventa il nostro uno due tre quarto mantra comando che è quello della vibrazione eccolo qua allora il mantra della vibrazione intanto dove arriva il mantra c'è un comando che è dato a che cosa è dato al nostro corpo emotivo inferiore sì noi abbiamo due corpi emotivi uno che sta al cuore centro energetico qui anahata chakra anahata e l'altro ha manipura che è un po' più sotto ed è il plesso solare ok adesso qui non si vede dovrei fare così ecco il plesso solare qua ed è manipura in sanscrito ma è il centro del desiderio ora noi dobbiamo far arrivare il comando anche al centro manipura del plesso solare poiché nella gran parte della vita noi siamo agiti attraverso quel centro attraverso il centro del desiderio poi è vero che dobbiamo far sì che il desiderio diventi aspirazione nel cuore ma dobbiamo informare anche quel corpo emotivo inferiore poiché il desiderio e l'aspirazione devono diciamo così collaborare insieme affinché possano precipitare in concretezza quel nostro proposito e allora mi pongo al centro delle cose sentite come suona nel plesso solare mi pongo al centro delle cose anche qui c'è abbiamo concentrato abbiamo svelato attraverso il cuore la visione di quel progetto e adesso attraverso il desiderio facciamo sì che vada al centro delle cose qual è il centro delle cose qual è per voi il centro delle cose vedete le cose possiamo dire anche i fatti ma anche i sentimenti ma anche tutti i pensieri qual è il centro qual è il centro di tutto gli inglesi lo chiamano core anche noi abbiamo il termine nel cuore delle cose allora pare che quel centro sia sempre il cuore ma è non questo cuore o meglio questo cuore ma qua nella testa il cuore nella testa il cuore nella testa è la cavità dunque attraverso il plesso solare allineato al centro del cuore noi riportiamo l'attenzione in cavità dove quel centro è il centro delle cose e io mi pongo attraverso il mio desiderio che è diventato aspirazione nel cuore mi ripongo nella cavità entro il cervello poiché lì si compie la magia della creazione o meglio della costruzione della forma pensiero lo comprendete più che comprendere lo dovete esercitarvi se vi esercitate in questo senso in poco tempo diverrete veramente propugnatori del vostro destino imparando la capacità di concentrare entro la mente di portare il proposito nel cuore di far sì che quel desiderio corrisponda al proposito e quindi di portarlo nel cuore della testa che è la cavità e da lì proiettarlo nell'ambiente ma manca ancora un mantra e qual è questo mantra? è il mantra dell'azione l'azione è la precipitazione nei piani dell'esistenza umana o della quella che noi chiamiamo la realtà in realtà è scusate il bisticcio di parole una apparente realtà o una realtà apparente cioè quella del mondo dell'apparenza di questo progetto di questa forma pensiero e il comando per precipitarlo è l'energia prende forza questo comando dell'azione è dato proprio al corpo eterico poiché è il corpo eterico che ha la funzione di precipitare tutto questo agglomerato aggregato energetico entro i piani dell'esistenza umana l'energia prende forza cosa vi evoca l'energia prende forza noi sappiamo che l'energia è quel potenziale che rispetto all'essere umano è nel centro del cuore energetico si chiama così proprio perché l'energia è lì il centro energetico è centro d'energia quindi è come una fonte l'energia sgorga dal nostro centro energetico e sgorga quando viene chiamata data forma di un progetto di un proposito e quindi proiettata quel che viene proiettato è quella energia potenziale che nel momento in cui viene proiettata diventa forza vettore di forza cioè viene indirizzata in una linea proiettiva che è il vettore quella energia segue quella linea proiettiva e quindi è convogliata da quella linea e condensata così come il vapore viene condensato in una goccia d'acqua che poi cade come pioggia e bagna il nostro volto ok avete compreso bene dunque il comando ci dice l'energia prende forza cioè l'energia è trasformata nella forza che può dare forma attraverso i vettori di forza può dare forma a quel proposito ogni forma è costituita da vettori di forza cioè da linee direttrici da linee di forza se voi prendete la computer grafica quando dovete disegnare qualche cosa lo disegnate proprio in quel che si chiama wireframe cioè un insieme di poligoni che ci dà l'idea di quella figura ma in realtà sono una forma di poligoni di vettori di forza dopodiché su quei poligoni viene messo il mantello viene detto cioè viene rivestito e magari compare che ne so la computer grafica la forma di un di un'automobile ad esempio ma quando voi la vedete in wireframe vedete la forma fatta da quei poligoni come tanti triangoli che creano più o meno quella forma ecco sono le linee di forza anche quando noi vogliamo creare costruire un progetto come il progetto stesso che viene dall'architetto disegnato viene disegnato attraverso le linee di forza che sono da un punto prospettico tracciate per poi andare a definire tutte le misure e la forma complessiva ad esempio di quell'edificio se si tratta di un architetto che sta progettando un edificio allo stesso modo noi possiamo costruire quell'edificio tra virgolette dentro di noi attraverso la concentrazione interessante vero dopodiché una volta che è chiaro e costruito quel wireframe quelle linee di forza che sono le varie misure le varie componenti tutte le variabili che ci sono nel progetto questa è una forma pensiero non è un unico pensiero è la forma del progetto e quindi di tutte le variabili e delle misure complessive ed è anche la visione dell'interezza del progetto cioè noi dobbiamo vedere qual è la causa qual è il significato che gli diamo e qual è l'effetto che vogliamo che quel progetto abbia nel mondo dell'apparenza eh sì questo è un vero progetto questa è una forma pensiero beh naturalmente anche con i corsi che io tengo attraverso fraternity.it o meglio la scuola di sintesi evolutiva che tra l'altro il 23 di settembre partono i vari corsi e li potete vedere su scuola di sintesi evolutiva fraternity.it quindi ho promosso diciamo questi corsi che annualmente tengo ecco e insegno anche come creare le forme pensiero e quindi come si attua nella pratica questa procedura bene allora noi abbiamo rivediamo un attimo no? eccolo qua il capodopera dove c'è in sintesi con questi cinque mantra cinque comandi noi possiamo ottenere dalla formazione diciamo della idea iniziale fino alla precipitazione attraverso l'azione i vari comandi esecutivi per i nostri corpi sottili il nostro corpo mentale il nostro corpo emotivo superiore ed inferiore e il nostro corpo eterico sono i corpi della personalità preposti proprio a far sì che noi coscienze possiamo muoverci possiamo avere idee possiamo avere sentimenti e emozioni sono quelli che ce li fanno avere diciamo che la visione del sottile è un po' più complessa di quella solo prettamente fisica noi non siamo solo il nostro corpo ma siamo un aggregato di vari corpi mentale emotivo i due emotivi superiore ed inferiore e quello eterico attraverso cui la coscienza cerca di imparare vivere avere esperienza e siccome il nostro compito è quello di evolvere e di far evolvere anche il pianeta e tutte le forme del pianeta lo facciamo attraverso la creazione e costruzione e il rinnovamento delle forme pensiero queste forme pensiero poi vanno anche a rinnovare l'immaginario collettivo quindi pensate che compito che abbiamo e lo facciamo attraverso la meditazione la meditazione è l'attività principe cioè basilare per creare nuove forme pensiero o aggiornare quelle vecchie e siccome siamo all'inizio dell'era di Aquarius dobbiamo rinnovare tutte le forme della vecchia era dei pesci che adesso ha lasciato il posto appunto all'era di Aquarius dunque c'è un sacco di lavoro da fare ed è per questo che realizziamo anche questi video per aiutarvi nella nuova costruzione che è anche un miglioramento di noi stessi va bene direi che ci possiamo fermare qua una quarantina di minuti va benissimo e quindi vi do appuntamento alla prossima volta dove andremo a esaminare e a vedere un altro capo d'opera con un'altra elevazione di un disagio e quindi come in questo caso il disagio della distrazione che viene rielevato al suo principio che è quello della concentrazione tutti i disagi sono l'abbassamento in frequenza di principi quindi ritornando ricollegandoci al principio noi eleviamo quel disagio alla sua frequenza originale quindi non diventa più un disagio ma ritorna ad essere quel principio che era fin dall'inizio bene vi saluto come anima ribelle e vi do appuntamento alla prossima volta ciao a tutti